questo è l'ultimo e avanti permesso buongiorno buongiorno compositore e cantante anche lei si compositore e cantante parole in musica si parole in musica direttante o professionista come scusi direttante o professionista direttante pazienza sentiamo il titolo di questa canzone si chiama il bar margherita ma cos'è il nostro bar l'ho composto ognuno al nostro bar meno male che erano le bar crescentemo a lunga è la giornata la spesa nel lavoro mai finisce mai a corta è la serata la spesa con gli amici che finiscerà mai nella notte cerchi quando l'anno divino credi ancora dai ogni grande sogno non te l'ha proibito credi ancora dai il bar margherita il bar margherita e basta e basta per piacere finito si vada vada le faremo sapere grazie un saluto un saluto divano corrado per questa base musicale che è introvabile volevo niente innanzitutto ringraziarvi per aver avuto pazienza per guardare questo video e questo è tratto da un film di pupia vati che si chiama gli amici del bar margherita che vi invito a guardare e vi presento il nuovo attore emergente simon 2007 un applauso grazie a tutti grazie mi raccomando e anche grazie al mio cameraman sempre fedele il mio grandissimo cameraman pieno di lavite e niente ragazzi che cosa vi posso dire mi raccomando iscrivetevi sempre sul mio canale youtube mi raccomando il lord 766 su youtube ciao